Come rispondere alle recensioni in Google My Business Se è importante che la tua azienda venga trovata online è sempre più fondamentale che i potenziali clienti trovino subito un riscontro positivo riguardo ai servizi che offri Sempre più persone utilizzano le recensioni online per scegliere non solo i prodotti, ma anche servizi e aziende Le recensioni di Google rivestono un ruolo determinante perché sono generalmente visualizzate più in alto nei risultati di ricerca Come imprenditore hai la possibilità di rispondere alle recensioni lasciate su Google e ciò può effettivamente migliorare la reputazione della tua attività Non sottovalutare l'importanza delle tue risposte perché oltre a farti migliorare il posizionamento su Google ti aiutano a fidelizzare la clientela evitando di perdere qualche compratore scontento per un errore Ecco 5 consigli utili per rispondere alle recensioni soprattutto se negative Scrivi con cura, ricorda che le tue risposte saranno pubbliche Prenditi un po' di tempo, leggi le tue parole e controlla l'ortografia e la grammatica Stai rappresentando la tua attività, quindi vuoi apparire professionale Si gentile, può capitare che il cliente abbia torto e che usi un tono inadeguato Tuttavia mantieni la calma e cerca di non usare il suo stesso tono Si sempre educato, cortese e rispettoso Personalizza ogni risposta Sarebbe molto più facile copiare e incollare una risposta standard Ma questo ti farà risultare pigro e impersonale Saluta invece il revisore con il suo nome e rispondi sul contenuto Scusati e offri una soluzione Le recensioni negative sono difficili da accettare Cerca sempre di trovare una soluzione Soprattutto se sei tu ad aver sbagliato Di grazie Di grazie a tutti i tuoi recensori Mostra di apprezzare il loro feedback, anche quando non positivi Se hai bisogno di una mano per gestire la presenza online della tua azienda Visita godeddy.it